Un caro saluto a tutti gli amici di Area 51 Publishing da Simone Bedetti, editore di Area 51 Publishing e originatore del metodo Mind3. Anche oggi una nuova dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Iniziamo subito il nostro allenamento quotidiano. Oggi incontriamo un incontestabile genio, non soltanto del teatro italiano, mi verrebbe da dire della filosofia contemporanea. Carmelo Bene, per chi non lo conoscesse, Carmelo Bene è uno dei, non soltanto italiani, ma a livello mondiale, uno degli attori, degli autori, dei ricercatori, degli artisti teatrali teatrali più importanti del Novecento. E ci ha sempre abituati a un modo istrionico di presentarsi, soprattutto quando si presentava al pubblico di massa, cioè attraverso la televisione. Ma in realtà, secondo me, e ringrazio ancora Marcello Tancredi, che mi ha segnalato questo monologo, questo breve monologo televisivo di Carmelo Bene, tratto da un Maurizio Costanzo Show, secondo me, se ascoltiamo bene e analizziamo quanto ci dice, non solo qui, Carmelo Bene, ma qui come una sorta di sintesi del suo pensiero sul lavoro su di sé, sul lavoro non soltanto dell'attore su se stesso, ma dell'essere umano, come artista della sua vita, del lavoro dell'essere umano, della sua vita come opera d'arte, quindi del lavoro che ognuno di noi può fare su se stesso per rendere la sua vita un'opera d'arte, ci dice moltissimo proprio su come attuare questo progetto di costruzione del proprio migliore sé e mi verrebbe da dire che è molto affine al modo in cui anche noi lo intendiamo il lavoro su noi stessi. Ecco quanto dice Carmelo Bene. Ma non è barbara, non sono un incolto, non sono un incivile, sono un capolavoro. È vero. Attenzione che qui la vanità è finita, qui non c'è più vanità, basta non produrre capolavori, bisogna essere dei capolavori, che non è la volontà di assatanamento di potere, la volontà di potenza, ma è il disfacimento del concetto di soggetto. Bisogna diventare dei capolavori, l'arte è sempre stata borghese, consolatoria, idiota, mentecatta, stupida, soprattutto è stata cialtrona e puttanesca e ruffiana, l'arte deve essere incomunicabile, l'arte deve solamente superare se stessa, ecco perché tocca a noi, chissà a chi, una volta fuori di noi, essere un capolavoro, uscire fuori dal modo, come diceva San Juan della Cruz, per pervenire là dove non va più modo, quello che gli nostri volevano, esigevano dall'informe, mi sono spiegato, ecco, ma non posso che cercare di spiegare il mio disagio, ecco, ma non altro, non posso dare appuntamenti con il reale, appuntamenti con l'obbio, con l'oggio, con il razionale, ecco, è questo, il buio, spegniamo le luci. Ecco, avete sentito all'inizio, quando Carmelo Bene dice, sono un capolavoro, con quel suo modo, che abbiamo detto appunto istrionico, suscita le risate sincere di Maurizio Costanzo, come se fosse una battuta o appunto un gesto performativo, un esibirsi egocentrico, che si pone soltanto come appunto battuta, come colpo di teatro, ma in realtà non è così, in realtà essere dei capolavori, e poi lo spiega bene dopo, nel minuto successivo, come avete sentito, essere dei capolavori è un punto centrale del discorso che ha fatto qui Carmelo Bene, e può riguardare anche noi, perché significa centrarsi completamente sulla propria capacità di esprimere il meglio che si può esprimere, quindi sulla propria capacità di analizzare, criticare, raggiungere, superare, soltanto se stessi. Ecco perché parla di disfacimento del soggetto, il soggetto che va disfacendosi, che deve disfarsi, dice Carmelo Bene, è quello che Jung avrebbe chiamato persona, il soggetto che ha una sua identità sociale, cioè una sua identità esterna. Questo disfacimento è necessario affinché l'individuo si trovi di fronte a se stesso, e infatti, dice Carmelo Bene, non c'è ego, non è una questione di egocentrismo, al contrario, è una questione di denudarsi completamente fino a restare buio, nulla rispetto a ciò che eravamo dal punto di vista di identità sociale che ci veniva data da fuori, nel nostro linguaggio, nel senso di tutte le credenze, le abitudini, i condizionamenti, i programmi, consci e subconsci che abbiamo installati fin dalla nostra nascita. e invece iniziare a costruire, a scoprire, ecco perché l'arte, a esplorare se stessi, senza più alcun tipo di condizionamento esterno, ma con la necessità di trovare la propria autenticità, anche se questa probabilmente dal punto di vista artistico è introvabile, inesprimibile, irraggiungibile, ma cercare di arrivare a sforzarsi di giungere a questa autenticità assoluta che non ha più alibi, che non ha più ipocrisie, che non ha più sconti, che non ha più neppure un oggetto esterno, ma che è soltanto se stessa in se stessa. Ecco perché Carmelo Bene, avete sentito, denigra in maniera ancora istrionica, spettacolare, l'arte ovvia, puttanesca, come dice lui, che si vende, si svende, che è l'arte borghese, che è l'arte che vuole ridurre ogni individuo a massa, l'arte che vuole educare le masse, l'arte che vuole insegnare alle masse, l'arte che vuole dare messaggi alle masse, l'arte che vuole indirizzare l'individuo in un unico canale che annienta, l'assoluta unicità e imprendibilità dell'essere umano nella prospettiva artistica, che però non è così lontano dal comprenderla anche in modo più prosaico, come facciamo noi. La nostra imprendibilità non è altro che la possibilità di superare sempre noi stessi, fino all'ultimo giorno, fino all'ultimo minuto, nel senso di un continuo cambiamento, di un continuo domandare, di un continuo avanzare, di un continuo non rassegnarsi mai, di un continuo essere indirizzati al domani e non allo ieri, sempre in avanti, sempre spinti in avanti, con la curiosità dell'oltre, di ciò che può essere ancora, di ciò che può essere ancora meglio, di ciò che possiamo fare ancora dopo che abbiamo fatto questo. Questa è l'imprendibilità. Quando Eraclito diceva la natura ama nascondersi, questo sfuggire non è un celarsi alla consapevolezza, è un continuo avanzare della natura sempre oltre il singolo individuo, ma il singolo individuo, attraverso la sua ricerca in sé, da sé per sé, continua a desiderare di avanzare, di crescere, di migliorare. Questa è l'istanza della vita, questo è il senso della vita e questa è l'essenza della vita, che è sempre continua crescita, che è sempre continuo avanzamento, che è sempre più desiderosa di altra vita. Questo credo che sia il pensiero molto forte e molto stimolante per noi di Carmelo Bene, che diceva anche se si vuole davvero cambiare qualcosa, bisogna cominciare a cambiare se stessi, andare contro se stessi fino in fondo. Il massimo impegno civile è l'autocontestazione. E io aggiungerei ancora in maniera più prosaica, più minimalista, che se non proprio di autocontestazione, basterebbe parlare di qualcosa che oggi è completamente sparito dal nostro mondo, l'autocritica. Bene, cerca di portare in azione queste parole, queste frasi, questi insegnamenti nella tua vita di oggi, affinché ogni tua giornata diventi sempre più piena di senso, di energia, di motivazione, di spinta alla tua crescita e alla realizzazione della migliore versione di te. Non cedere mai alla mediocrità, ogni giorno punta sempre a manifestare nel tuo mondo il meglio di te. A domani, per un'altra dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Contro il logorio della vita moderna. Grazie a tutti.